E' giù l'ospitacolo Non toccare a mano Grazie media Ora riprendiamo I fotoni che sono il raggio Spiraleggia Venetia com La nuova Vi sentiamo un po' male Ma ecco Possiamo dirvi che qui abbiamo la pelle d'oca Non è solo una questione di freddo L'emozione è moltissima Ormai mancano pochi minuti L'eccezionalità dell'evento è nei cuori Sulla pelle Nei nostri occhi Con questa immagine meravigliosa di Venezia In un momento unico Fra pochissimi minuti Sentirete i suoni I suoni che racconteranno il futuro Grazie a dopo Adesso si sta mandando il primo segnale Quello normale Quindi senza momento angolare orbitale E' quello che si sta sentendo Tra un po' faremo sentire Che sulla stessa frequenza Manderemo un altro segnale Stiamo mandando invece l'altro suono Che è sul fascio Con momento angolare orbitale Per cui sulla stessa frequenza Dando momento angolare orbitale Stiamo sentendo un altro suono Quindi un altro canale In un altro canale di vita La luce Prima volta al mondo Una bella emozione E' il primo canale con voi Grazie a te Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.